nell'auditorio massimo del nuovo studio radio dove la radio orchestra sta effettuando le prove del concerto pubblico che la radio della svizzera italiana trasmetterà domani sera alle 20 e 55 sul primo programma assiste alle prove il maestro giorgio federico ghedini direttore del conservatorio di milano uno tra i più quotati compositori italiani contemporanei il maestro ghedini ha scritto su invito della radio della svizzera italiana contrapunti per tre archi e orchestra composizione che sarà trasmessa nel concerto di domani sera in prima esecuzione assoluta approfittiamo della pausa per avvicinare l'illustre ospite maestro avanti tutto vorremmo che lei gentilmente ci parlasse della sua composizione contrapunti per tre archi e orchestra come dice il titolo è veramente un gioco di soli e di tutti che si si snoda in tre movimenti il primo movimento piuttosto lungo e complesso il secondo movimento è un adagio un andante e il terzo movimento è un finale sbrigliato e scatenato mi pare dai risultati ottenuti dall'orchestra oggi e dai solisti bravissimi mi pare che la composizione renda bene e soprattutto sia chiara e non abbia equivoci o problemi adesso la musica ha troppi problemi io credo che la musica debba averne meno è quello che mi propongo io da diversi anni cosa pensa lei del persistere di certe tendenze che ormai hanno fatto il loro tempo ma cosa vuole che le dica è la o la scarsa musicalità di chi oggi si dedica alla musica o l'ambizione di arrivare ci sono tante cause e tante ragioni o la paura di essersi insieme e di passare forse in osservati se non si fanno delle stramberie ecco io credo che adesso la questione sia tutta lì fare delle stramberie essere qualcuno anche non essendo niente questo a mio parere sappiamo che lei maestro ha scritto anche diverse opere teatrali vero pensa di dedicarsi ancora a questo genere di composizione io penserei ancora di dedicarmi a questo genere ma la difficoltà è trovare il libretto l'opera è sempre un impegno e se non si trova un libretto adeguato si sciupa un lavoro che costa mesi di fatica se non più ora le vorremmo fare una domanda un po insidiosa cioè sapere la sua opinione sui giovani compositori italiani dell'ultima leva è una domanda molto imbarazzante per me perché dire bene sarebbe facile dire male sarebbe anche facile è meglio non parlare di questo né in bene né in male sento maestro se non eriamo lei lascia il conservatorio di milano per raggiunti i limiti d'età quali sono i suoi progetti per l'avenire i progetti per l'avenire sono di lavorare ancora e di chiudermi nel mio lavoro e di non pensare più ad altro che al lavoro a leggere dei libri a vedere delle belle cose a riprendere insomma la mia vita di uomo libero grazie maestro